buongiorno buongiorno allora vi dico questo per iniziare un mio amico juventino ieri sera fisco finale proprio sul fisico finale mi ha mandato questo messaggio fino alla fine con il cuore rosso un altro mio amico questa mattina interista mi ha detto esattamente questo da interista devo dire che quella di ieri sera è stata una vigliaccata far uscire la sentenza pochi minuti prima che le vento scendesse in campo mi è sembrato di rivedere quell'anno in cui a berlusconi fu notificato un avviso di garanzia durante il g8 sono due situazioni ovviamente diverse una viene da uno juventino e ci ha messo il cuore l'altra viene da un interista ma ci ha messo il ragionamento che fotografano molto bene la situazione della juventus di adesso e di questi ultimi mesi il cuore cosa vuol dire andare oltre c'è quel marchio c'è quel simbolo ci sono quei colori che vanno tifati vissuti difesi a prescindere da chi li rappresenta a prescindere da chi li rappresenta perché perché la juventus morirà quando ci sarà la fine del mondo con buona pace di chi la vorrebbe vedere morta prima di chi l'avrebbe voluta uccidere nel 2006 ma l'aveva fatta solo addormentare perché poi si è risvegliata e probabilmente succederà anche questa volta l'altra parte di chi si rende conto si rende conto che al di là di sentenze giuste ingiuste di discussioni di quanto può essere successo può non essere successo o quanto succederà ancora c'è una evidente evidente volontà di giocare come fa il gatto col topo di distruggere anche dal punto di vista psicologico un ambiente un mondo o colpire più che distrugge perché distruggere non ci riusciranno mai colpire un mondo come quello della juventus bastava far uscire la sentenza qualche ora prima bastava farlo uscire quest'oggi farlo uscire a un quarto d'ora venti minuti mezz'ora quello che è dall'inizio di una partita è una cosa è una cosa è una cosa voluta fatemelo dire ragazzi è una cosa voluta non lo so non lo so sono arrivato anche a pensare che va bene le diamo dieci punti ma tanto poi adesso li li mettiamo psicologicamente in difficoltà e se ne danno altri tre e così praticamente andata più o meno più o meno perché dico più o meno perché in mezzo a tutto questo discorso naturalmente ci sono anche altre riflessioni da fare c'è stata una partita in cui la juve ha sbagliato l'empoli ha segnato la juve ha sbagliato l'empoli ha segnato la juve ha sbagliato sbagliato e risbagliato la testa può fare tanto sicuramente ma non mi sento di dire non mi sento di dire che tutto quanto è avvenuto a tempo l'ieri sia figlio della situazione che si è creata precedentemente tutto quanto guardate bene non è facile non è facile ha detto come ha detto allegri qui non lo sto difendendo non è facile giocare quattro mesi in questo tipo di situazione e la frase che io prendo ad esempio di tutto quanto ha detto allegri ieri è fate presto fate presto che finisca tutto alla svelta perché andare avanti così non si può a prescindere da tutto quello che succederà fate presto e allora è vero che era meglio che dessero forse 20 punti ieri andando oltre la sentenza perché tanto ne daranno altri col secondo filone la juve in europa l'anno prossimo non ci giocherà è inutile cercare di aggrapparsi adesso ad una vittoria sul milano quello che poteva essere una vittoria contro l'empoli e poi una sul milano che ti rimetteva in corsa per andare in cessione no ragazzi perché dal secondo filone arriverà un'ulteriore penalizzazione che non permetterà alla juventus di andare in europa il prossimo anno con tutte le conseguenze che si potranno verificare poi però c'è la posizione di allegri la posizione di allegri è la parte più semplice o complicata da scusate ma qui come vedete devo fare tutto con una mano solo perdonateli più semplice più complicata ad analizzare ho già più volte detto che non sarà secondo me l'allenatore diciamo adatto per una ricostruzione perché questa ricostruzione avverrà dal basso avverrà facendo leva su giovani su rientri di prestiti perché bisognerà affrontare la voglia di blausi di andare via la voglia di di maria di andare via la voglia di chiesa di andare via e altre voglie e quando tu hai una formazione che deve far leva su rientri da prestiti alcuni da sistemare sarà molto difficile e su giovani da voler rilanciare non lo puoi fare basandosi sulla tua filosofia di gioco sulla filosofia di gioco di allegri non si può fare secondo me è mio modestissimo parere non si può fare si dovrà fare attraverso un allenatore che debba dare che sia in grado di dare un'organizzazione un gioco una mentalità e quant'altro sono qui a dirvi che stando così le cose allegri non dovrebbe più essere l'allenatore della juventus il prossimo anno perché non sarebbe adatto fuori luogo e l'altra considerazione che mi sento di fare ragazzi è basata su cifre perché normalmente noi viviamo anche di cifre il calcio è vero che non è una scienza esatta ma qualche numero lo porta e allora è vero che è stato difficile lavorare in questa situazione assolutamente nessuno lo nega che sia stato difficile ma i risultati ottenuti fino adesso d'allegri alla 36esima giornata sono praticamente identici a quelli dell'anno scorso quando questa situazione non c'era e tocca dirlo i numeri sono questi gli ho realizzati 55 come la 36esima giornata dell'anno scorso i punti sono 69 esattamente come adesso 69 non 59 69 i gol subiti l'anno scorso erano 33 quest'anno 32 e quindi e quindi evidentemente in un anno in due anni diciamo così di gestione allegri i risultati che anche lui stesso si era prefissato di ottenere non sono stati ottenuti ci sono i dati incontrovertibili poi mi si può dire magari senza tutto quello che è successo quest'anno avrebbe fatto più punti dell'anno scorso può darsi è metteteci due con la salernitana metteteci alcune situazioni poco chiare diciamo così per carità ma i dati sono questi e sono i dati su cui dovrà riflettere una società che adesso deve trovare il punto d'incontro sul nuovo direttore sportivo che sia giuntoli che sia manda che sia qualcun altro e su una campagna acquisti che dovrà necessariamente essere condizionata da tutto quello che potrà accadere sarà una estate molto bella giornalisticamente da seguire e complicata sicuramente da gestire su allegri approfondiremo anche questa sera iscrivetevi al canale naturalmente ci vediamo al prossimo video